Non piove adeguatamente da mesi. La tempesta di inizio luglio ha fatto solo disastri e i pozzi agricoli iniziano ad essere ormai al collasso, mentre la carenza d'acqua sta colpendo anche la fauna ittica. I volontari delle associazioni più volte a settimana recuperano i pesci dalle buche che la siccità scava. Li portano nei secchi verso monte, ma a volte è già tardi, spiega Vainer Mazzoni, e il pesce muore. L'ultimo caso vicino a San Nicolò. Chi fa manutenzione ai pozzi, come Sergio Perazzuoli a Fiorenzuola, dice che il telefono continua a squillare. I pozzi tirano dentro sabbia, fine, ma anche detriti. In Trebbia si vede occhio nudo l'effetto della fine del rilascio di 2,5 milioni di metri cubi d'acqua dalla diga del Brugneto. Lunedì dovrebbero incontrarsi i vertici di Emilia Romagna e Liguria, ma intanto l'assessore regionale Ligure, Giacomo Giampredone, ha detto che non ci sono le condizioni per un rilascio ulteriore a vantaggio della campagna piacentina. Le temperature raggiungono anche i 39 gradi, il record nella bassa Piacentina e c'è chi racconta di aver dormito in auto o sulla panca del giardino pur di cercare un po' di fresco.